Il comune di Pescara ha avviato due procedure di esproprio di due importanti aree ricadenti all'interno della riserva d'Annunziana. Si tratta dell'ex galoppatoio e della zona dove una volta sorgeva il casello ferroviario. Le novità sono state illustrate dall'amministrazione comunale che ha rivendicato questa mattina in conferenza stampa l'importanza dell'azione politica. Abbiamo avviato due procedure di esproprio, una che riguarda l'ex galoppatoio, quell'area dentro la riserva naturale, dentro il PAN, espropriamo 13.000 metri quadrati. Quindi restituiamo alla città un'area verde che era di un privato, che è di un privato, si è sempre parlato di acquisire al patrimonio pubblico quell'area, nessuno l'ha mai fatto. Noi avviamo la procedure di esproprio convintamente perché pensiamo che tutta l'area, per ora ne espropriamo 13.000 metri quadrati, che tutta quell'area di 50.000 metri quadrati debba tornare velocemente al patrimonio pubblico. E poi espropriamo anche l'ex casello ferroviario che si trova sempre dentro la Pineta, nella zona di via della Bonifica, dove un privato che ha acquisito il casello vorrebbe costruire una villa. Siccome si trova dentro la Pineta, siccome si trova dentro al PAN e anche quella è un'area che deve essere a servizio della Pineta, anche lì abbiamo avviato la procedure di esproprio. E intanto, come ha spiegato l'assessore Gianni Santilli, proseguono a buon ritmo i lavori per arrivare a breve alla riapertura dei comparti 3 e 4 della Pineta. Sono in atto già dei lavori al comparto 3 e 4, che pensiamo di riaprire entro la fine del mese, e poi inizieremo i lavori al comparto 5, sul suggerimento degli esperti, quindi faremo delle pulizie particolari al comparto 5. Invece quello che mi preme dire è la riapertura dei comparti 3 e 4, in modo da dare la possibilità alla cittadinanza, ai bambini, di tornare a correre all'interno del parco. È possibile che la riapertura totale di tutta l'area avverrà prima dell'estate? Stiamo lavorando su questo, sicuramente. Il totale sarà un po' difficile, in quanto ci sono stati d'incendio, ha distrutto una grande parte della Pineta del comparto 4, però stiamo vedendo come mettere in sicurezza per dare la possibilità di sfruttare al massimo lo spazio all'interno del parco. Grazie.